Benvenuti ragazzi con un nuovissimo video Oggi vi mostrerò tutti gli oggetti che mi avete dato al Games Week Ma soprattutto c'è un oggetto in particolare Un bel pacchetto che vi farò vedere dopo E non pensate male, lo so che hai pensato male Non pensare male Quindi vi farò vedere alcune delle cose che mi avete regalato Detto questo ragazzi, sotto a spolliciare Vediamo se raggiungiamo gli 8000 mi piace per questo video Perché a me mostrare oggetti strani piace troppo E c'è scritto oggetto strano su questo coso Quindi immagino sia strano Ma state a vedere Allora ragazzi, come vi ho detto Sono stato al Games Week questo venerdì, sabato e domenica Mi sono divertito un casino Voi eravate tantissimi E scusate ragazzi se non sono riuscito a fare foto con tutti Ma io ce l'ho messa tutta Vi giuro che ci ho provato ma eravate veramente troppi Ogni volta rivedervi è qualcosa di fantastico C'erano le nuove cartoline, le ho praticamente finite tutte È stata davvero una grande gioia immensa vedervi lì In questo video vi farò vedere alcuni degli oggetti che mi avete regalato In particolare c'è questo pacco qui Che mi ha dato uno di voi E c'è scritto oggetto strano Quindi, cioè adesso non so se riuscite a leggere C'è scritto qui oggetto strano E cioè vi giuro che sto morendo dalla voglia di aprirlo Perché dal Games Week che ce l'ho in mano così e non lo apro Sento qualcosa di morbido Io non c'ho idea di cosa sia Ho chiesto al ragazzo che mi ha dato cosa fosse Per avere alcuni indizi Mi ha detto un oggetto strano che ha trovato in casa Bene, sono davvero molto curioso Però questo ce lo teniamo alla fine Perché prima voglio farvi vedere queste altre cose qui Allora qui c'è un cartellone Questo ve lo faccio vedere dopo Qui inoltre il ragazzo che mi ha dato questo oggetto Mi ha lasciato anche tipo un bigliettino Per rendere il tutto ancora più misterioso Quindi dopo ci vediamo un po' questa cosa Perché sono davvero curiosissimo E poi, allora Qui abbiamo una lettera Abbiamo una lettera Prima di aprire questa lettera però Io direi di aprire questo fogliettino Io ancora non li ho visti questi ragazzi Quindi se c'è scritto tipo un insulto Lo sto per avere in diretta Cazzo, avrei dovuto leggerli prima Va bene, ma non credo proprio Allora, viva Golden Jumpy Ok, c'è un biglietto Viva Golden Jumpy Ma c'è un problema Cioè Stessa cosa Anche a Romics era successo così Con i cartelloni Guardate come diamine è scritto Golden Jumpy Jumpy è scritto con la M Ragazzi vi prego Non vi sbagliate più Jumpy si scrive con la N Per favore Allora Ciao Golden Jumpy Ti voglio bene Continua così i bacioni Golden saluto a te che mi hai regalato questo cartelloncino Cartelloncino Bene, adesso passiamo a questa busta Per Jumpy da Andrea Ok, questa volta Ok, non so ragazzi se questa è una N o una M Però mi pare una N Ok ragazzi, secondo voi questa qui è una M o una N? Mi sa che non lo sapremo mai Io vado a sperare che sia una N Perché se no ti uccido Andrea No ok, sto scherzando Comunque sia Apriamo questa busta E vedo già qualcosa tipo che traspare Bene, c'è un foglio Ok Questo è un Poema gigante Comunque sono un deficiente Perché qui c'era scritto Aurora Non Andrea Ho confuso un maschio per una femmina Che idiota Bene Eeeh Penso che se leggo tutto questo coso nel video Finirà domani Quindi magari vi metto solo i punti salienti Ciao Giampi, sono la tua grandissima fan La cosa che mi piace di più di te è la disponibilità che hai con i fan Sei l'unico youtuber che mi ha risposto per la prima volta ad un messaggio La tua semplicità E tu Ok, cioè dopo questa cosa merita un abbraccio Perché prima hai elencato le cose E poi ha scritto E tu Se vuoi ci alleeremo insieme per picchiare tutti quelli che non hanno ancora capito Che non sei Giampi ma Giampi Oh, finalmente un fallo che vi dà un cartellone Che scrive bene Giampi Cioè ragazzi, questa è la vera felicità Ecco qui, cioè l'ha scritto anche In maiuscola la N Ok ragazzi, è arrivato il momento invece del cartellone Vediamolo qui Tan 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 Oh che bello Qui c'è il mio logo con scritto Con scritta tutta una dedica Poi qui c'è il mio logo stampato Questo invece l'ha disegnato Qui un mio video Hashtag scherzi a mia sorella Cioè è partito questa Questa hashtag ora Quindi sì ragazzi, farò molti scherzi a mia sorella State tranquilli Bene ragazzi, è arrivato il momento che tutti stavamo aspettando Ovvero di aprire questo pacchetto qui Ma prima abbiamo queste istruzioni Istruzioni, cioè non lo so veramente cos'è Apriamo questo coso Allora Vediamo Ciao Giampi Io questo fan qui lo uccido Perché guardate come ha scritto Giampi Cioè lo ha scritto con la M E l'ho anche sottolineato Scrivendolo in rosso Io ti voglio uccidere Lo sai questo? No dai scherzo Ciao Giampi Ecco qui l'ha scritto con la N invece Fai ridere un casino Sei un mito Giampi Giampi scritto di nuovo con la M Ed in rosso Non so bene a cosa servirà questo oggettino Ma Boh Bene Devo preoccuparmi Io Non è che esplode sto coso Siamo sicuri PS Prova ad annusarlo Io ho paura Allora Per adesso non sento nulla Non sento nulla Ma dopo aver letto questa cosa Inizio ad aver paura È arrivato il momento Di spacchettare questo coso E Sì Spero non sia nulla di Brutto Ragazzi Oh È arrivato il momento Che cazzo Un cervello Mi hai dato un cazzo di cervello Puzza anche Poi il bello È che È tipo mollo dentro Cioè Senti qualcosa di mollo Quando lo tocchi A parte che sputa aria Ma poi C'è proprio qualcosa di molliccio dentro Non è che era un cervello Umano Vero Di qualcuno Oh cazzo Ok ragazzi Comunque sia Direi che per questo video Può essere tutto Spero che vi sia piaciuto Vi invito a lasciare tantissimi Pollicioni in su Vediamo se raggiungiamo Gli 8000 mi piace Soprattutto per questo cervello Qui ragazzi Adesso me lo metto tipo in camera Da una parte Diventerà tipo la mascotte Lo vado a mettere laggiù E quindi ragazzi Sotto a spolliciare Anche per il golden cervello Abbiamo un golden cervello Originale Quindi sotto a spolliciare Lasciate tantissimi commenti qui sotto Iscrivetevi al canale Se ancora non siete iscritti Per non perdere i prossimi video Seguitevi su una mia pagina facebook Link in cima alla descrizione E noi ci vediamo alla prossima Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti